Via libera dall'Assemblea dei Soci al bilancio 2016 di AEVV a Energia SRL, azienda operante nella vendita di energie elettriche e gas metano in ambito provinciale, facente capo al gruppo di AEVV SPA, azienda energetica di Valtellina e Valchiavenna. All'ordine del giorno della seduta anche il rinnovo del Consiglio d'amministrazione, che ha visto la conferma del Presidente Bruno Di Giacomo Russo, affiancato da Silvia Bettini e Michele Nigriello, nominato da Lario Reti Holding, socio di minoranza. In considerazione degli obiettivi raggiunti, spiega la società, la scelta condivisa è stata dunque quella di confermare un gruppo di lavoro composto da professionisti esperti e competenti. Di Giacomo Russo, nel ringraziare il Direttore Generale Maurizio Casartelli e i soci per il riconoscimento del proficuo lavoro svolto, ha rigavadito che per AEVV Energie la politica di diretto contatto con il cliente aiuta ad offrire il servizio più adeguato alle sue esigenze. In tal senso, aggiunge, AEVV Energie rappresenta una realtà concreta, efficiente, seria e radicata sul territorio, che traduce nella pratica la vicinanza alla clientela. Ad oggi gli utenti forniti sono più di 25.000. Grazie.